musica ok ragazzi benvenuti in questo nuovo video benvenuti ragazzi siamo in nascondino che è il giochino che ho già fatto con Angel l'altra volta sono che oggi siamo in compagnia di Nick, Dark, Strenus ciao a tutti ragazzi allora io non ci sto a capire niente ma io che ho la forma di un qualcosa in questo gioco dovete voi siete dei blocchi e dovete nascondervi per non farvi trovare dai cacciaturi ok ok proprio questo è il gioco se il cacciatore vi trova se non sbaglio ha delle atti qual è il tasto per c'è uno che mi sta merando le chiappe eh infatti quello è il cacciatore qual è il tasto per vedermi dall'esterno tipo eh f5 comunque te lo dico ok f5 capisci il blocco che sei così ti puoi mimetizzare pare facile oddio ma non c'è un modo per fermarsi proprio per sta fermi si si puoi fermare puoi metterti a terra puoi piazzarti con il tasto shift ti piazzi praticamente ora vedi l'acqua è un cacciatore mi hanno scamato mi hanno ammazzato oddio non sono morto io non sono morto perchè sto stupito blocco non sta fermo oddio oddio l'ho l'ho mascamato fermi sono un cacciatore adesso mi vengo a cercare da te è un cacciatore salido si sono un cacciatore anch'io adesso cazzo ma guarda sto scemo che mi deve stare vicino eppure in mezzo aria mi sta beccando quello che culo chi è questa libreria che corre una libreria che corre un po' l'ho scattata che vince chi rimane insomma vivo per ultimo come l'euro e praticamente devi rimanere vivo fino all'ultimo però puoi essere sia un blocco solido come se adesso che selezionare la spada e ammazzati anche tu a tua volta no giocatore non deve ricercare quelli nascosti ok va bene ok io so che io sono fermo sono fermo io sto qua non mi vede spazio è morto no non mi smuovo io neanche con le bombe comunque ragazzi vi ricordo che nella descrizione troverete in tutti i canali ovviamente il link in descrizione quindi se volete andare a vedere gli altri visuali cosa è successo e la trovate i link in descrizione ma perchè ora avete il personaggio e non più il blocco dunque aspetta alex dj pro questo qua che si con la skin è da prendere vero se non è bianco ma tu dire attaccare chiunque oddio no 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 i blocchi devi attaccare i blocchi che sono nascosti no non sono più blocco solido merda alex dj infatti non è un blocco va preso ma dai eh perchè a me io pure che non mi smuovo se smuovo da solo come fa no chi per 96 sta giocando non voglio morire sono giovane ma perchè ma perchè a me mi vedo come personaggio all'improvviso quando lo so carcaio sono morto per quello devi fare F5 per capire no vabbè predica oddio sono deficiente oddio vedo dark mi nascondo ma cazzo strano un cacciatore che non sa cacciare però si allora vediamo io non so andando no mi sto robo ma la scappa a a a a a a a a non avevo visto, si come no, stavi attaccando a tutti i blocchi lì vicino un blocco non è stato vivo? nooo, lo voglio uccidere io, perché non, come è che esco da qua, 10 secondi? 10 milioni di secondi, 10 secondi, eh ecco che allora devo cercare l'ultimo poveraccio che è rimasto vediamo, vediamo, colpisci qualsiasi cosa, guarda che lo trovi merda, 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 aiuto, dove sei? dove sei che ti faccio, ti accarezzo, ti liscio il pelo, dove sei? sto girando in giro a menare le pareti, non succede niente eh anch'io eh, ragazzi non mi trovate mai, sono camperato peggio di un camper su quello di tutti è ancora da vedere ma che a me mi scatto un po' sul gioco? no, è uno scatto di effigliere, l'ho preso, l'ho trovato, non sono io, non sono io è rimasto l'ultimo adesso trovo io, trovo io l'ultimo ok andiamo a prendere il raptor adesso, via si, 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 si tutti menate ogni roccia che non è a suo posto infatti ma parefai, ma sicuramente sarai dentro uno di questi edifici dai cioè nessuno che ci entra dentro e stiamo tutti fuori come dei deficienti ragazzi io non sono dentro gli edifici l'ultimo apposta, io non mi fido io sono un blocco, un tenero blocco in cerca di amici ma ti vengo a far compagnia se ti trovi guarda l'ho trovato, eccolo qua hai visto? no, 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 no vai, vai, ancora d'altro ancora aspettiamo il secondo, se si carica facciamo una modalità facciamo qualcos'altro, dai, nascondinho, ci dobbiamo sta fermi tutto il tempo andiamo sulle sue sky passage albacchia l'albacchia 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 se c'è troppa gente oggi sta bucchia da burti porcelloni sono passati poterlazionale riscaldosi per un piatto perché a me e le anche amici conosco appena lo so contento allora sempre clicco sull'orologio e poi quale il luogo l'albacchia 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 coltello la giallo ragazzo di amico avrò del resto e blocchi gialli che sono inizialo ai blocchi gialli si aspetta lo che blocchi gialli e così da solo un luogo a skin perché ti vedo senza schifo anche io non è un caso che vi ho fatto visto raptor arrivo 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 a ragazzi venite qua sopra che al mio 3 ci buttiamo tutti insieme così cerchiamo almeno di stare insieme una parola mamma mia che laggo ok 5 è una parola ok chi manca beh io sono dietro al raptor ma castrenos aspetta arrivo 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 eccolo eccole la sopra strenos non devi buttare giù però eh ok infatti stavo già per cadermi il lavoro ma non è che laggo lo vedo se era eh sì sono laggo ciao raptor ciao raptor ciao raptor ciao raptor ok io ce so quando vuoi dire ci buttiamo ah ci dobbiamo buttare giù perfetto due aspetta 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 troppi tubi ahahah dai dirlo tu raptor così se no quindi mi devo quasi 3 2 1 via camon iuhuu e come voi siamo insieme non lo so non lo so avesse a godare qual è lo scopo qui io so con i cari urca quanti siamo strano strano se c'è ok ok siamo tutti io vedo strano ok siamo tutti insieme ragazzi siamo tutti insieme davvero ma io no io strano se non lo vedo raga questo lo vinciamo io lo vedo rato ok vabbè oh shit vai ragazzi vai ragazzi questo lo vinciamo questo lo vinciamo siamo tutti insieme è impossibile perdere perchè non finire giurano ehm miracolo ci vuole per lui come faccio ragazzi a muovermi su questo cubo uno per uno cacchio e cerca di farti delle scale occhi alla legna di ragazzi sull'importante di cane da pesca le palle da neve 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 praticamente renna devi cercare di far cadere giulia gli altri avversari allora la canna da pesca me la metto qua non hai dato che aiuti mi viene a prendere con la macchina magari ok uno sta camperando a di chi c'è? si ci so mi sto piegando sotto strenus scendi dall'albero se no ti butto giù io ah aspetta aspetta strenus sto venendo dal te a non mi ammazzare eh oh grandissimo ok tieni tu anch'io ci riuniamo eh che ci riuniamo così cerchiamo di combattere l'insieme oh grandissimo cazzo uno ho cercato di ammazzarlo ma non è morto nick se mi butto giù da qui mi ammazzo dall'altro no 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 non ti ammazzo ah nick sta là ciò che qua c'è dark si perfetto ricarico ritorline ritorline dall'altro lato lo vedo che quella si sta facendo un muro attento c'è uno con l'arco che ci spara quando ho laggato mi sono cagato sotto sto cercando di venire ragazzi no non lo becchia lontano ma sto io che cazzo ora io ho preso a spada mora un po' aspetta aspetta arriva lui arriva lui arriva lui attenzione ma vai no eh no con noi so io il cazzo li fa la struttura ah ah sto arrivando sei un amico si e che famo facciamo un amico un amico cos'è fatta facciamo facciamo un picnic tutti insieme ok eh renna 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 srenos non riesco a portare dove c'è il srenos nella cassa nella cassa c'è roba ah ma sbaglio o siamo rimasti solo noi addirittura la c'è ninja oscuro ho benzo vinto si vinto no no vabbè sai chi ci può ammazzare poi no se no non si vince hai ragione si ah si dattemi il meno 5 secondi di fuga io già lo volevo ammazzare dai ahahah non c'è può niente lì chi sta eh angel ma dove c'è o stai eh non riesco a salire io l'ho tocco bugato che stai facendo là angel scendi eh dove dici no ragazzi ce n'è un altro c'è un tipo la giusta si c'è uno ancora andiamo 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 a prenderlo dai e quello di quello della macchia tutti insieme stanno questi città madonna ragazzi siamo tutti ragazzi tutti siamo tutti noi e basta ma che ha dato che ci lancia le palle ragazze campionato ragazze attenzione 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 non dobbiamo cadere non ho capito non ho capito non ho capito non ho capito ma non ho capito dobbiamo mettere magari qualche muro per quanto non c'è becca è vero vero allora fa così fa un piccolo muro lascia un buco al centro attendo a quello da quella guarda da dove o troppo le finisce le pallone che le infinite eh li ha finiti infatti e ha fatto il lavoro che c'è c'è le torce le torce le torce le torce le torce allora adesso o cerchiamo di andare alle cesti centrali nooo 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 ti è andato troppo avanti ok dai cucù ma nessuno ha un arco una freccia vuol dire eh no anche volendo non si fanno siamo nello skyworld più strano mai fatto 5 persone in team contro 1 5 contro 1 5 contro 1 saremo i primi chi è che ha vinto l'operato come c'è su guarda vabbè dai che era che davanti a me che c'è anche la ragazza buona forza io si tratta da guardare che se sacrificato si sacrifica pure in cielo qualcuno la mazzeralla finita ahahah io vado io vado io sono la tattica del laterale ragazzi di calma io ho fatto questa cosa non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' e infatti ci sono andati non sei accorto l'efficiente ok ho preso anche l'elmetto ma ragazzi cos'è quella specie di arnese allungabile che avete un rampito una canada pesca una canada pesca la canada pesca si è barricato dentro dai sei accorto sei accorto io cazzo sei accorto e vabbè possiamo continuare da questa strada no io volevo cercare di andare da sopra e buttare in secchi di lava eh bella idea ragazzo bella mortica ok ma ragazzo vieni a camminare schifte attendo chiudi chiudi il muro rena dove vai senza muro se siete butta qualcosa ragazzi si chiama da sopra eh io butto buio dai fermo 1 2 3 si chiama insieme morte terribile è andato morto è morto è morto aspetta che ho butto pure di qua è morto 2 si chiama e poi puoi buttarlo ragazzi impossibile che non è morto guardi pure teo uri non si sono ma pr quedar no ragazzi cazzo ragazzi abbiamo la chi si ci dobbiamo ammazzare alla fine non ho capito eh bearings perfettivo attraverso gli avvito adesso nessuno ancora lanciano l'ultimo di che io posso dire che stai per ora aspetta una volta ricorda ma scusa che è rimasto scusa io e te di amare i genitori dopo quello che costruito da quel tizio è morto con sette settimane ma non ti vuoi e ancora lì dentro il tipo come l'ammazziamo amici oscuro esco e la lavo l'ho usata allora lavo l'ho usata ok comunque io mentre voi dite sto a registrare vabbè allora dai ok dai allora sei pronto da qua andare giù? eh si va bene aspetta ma dov'è? io sono qua sono qua non so fatto la mia registrazione se no non ho usato la mia registrazione no dai aspettami 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 aspettai ma che cacchia è questo blocco? morte 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 oh buona ragazzi sicuro non è morto sei ammazzato da solo mi sa mi ha messo la lava mi ha messo l'acqua su sto lozzo ok è duro eh sta uscita da là sta uscita da là dove? nick 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 qua sta qua 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 dove sta qua? ecco dire no giù 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 eh non c'è neanche nulla da lanciargli si si morto 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 ok bello ci ha vinto non lo so lui da non lo so dai ragazzi facciamo un altro dai facciamo un altro dai 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 tutti altri che è gol ehm non c'era aspetta aspetta non c'è quello tutti contro tutti che era divertentissimo guarda d ehm dai andiamo su pvp si dai è più divertente perché così cinque lì è un casino fate slash hub no bella usa la fontana che ci sta qua prima o slash dicevi slash hub vabbè fate un po' il cazzo vabbè faccio qua bevete un po' in quale andiamo nel kit pvp1 o pvp2 boh no 1 non ti ho so guai tanto ah vabbè che fa 2 1 è più facile 2 1 è più facile come si fa ad uscire ci sono ci sono nick eh hub slash hub ah io ma che già ci stavo a me l'acqua oh datti po' guarda il cazzo che vuole questo ma scusa ma che ci veniamo qua il gioco me lo so che è un po' ma c'è un pezzo di merda io perché io non c'è un po' non so che si è sponato la senza niente non so che vabbè prendere i kit prendiamo allora ancora no le stagite la tuiti quattro sbaglio il muro il cazzo zio soldato c'è uscito soldato come fa prenderlo perché a meno e che ripeti il comando mi slash hub attorno a teatro c'è quello che mi vuole e ma quello è tanto dietro alla spalla alle spalle e io d'oro guarda raggio guarda ma quando è stato ma aiuto aiuto che vuole quattro aiuto portaci tu ma noi ho da contro raptor guarda guarda oh calma ci siete ci siete ci siete dove sei renna dove sei dove sei ah non riusciamo uscire da di là da islè scelto l'auto h1b se la sciaccia con abiturato a h1b ok ci siamo ok andate sul server 1 e pvp 1 insomma cuore cuore se le cazzo no che ci siamo ok facciamo faccio il tutto fumo non ci siete no o la terza pvp 1 6 6 lo faccio ecco kit contorci e io cambio che tu non ci posso domani da me che parlare ci sono e non ci può ci può ci può ok vieni qua stenoce vieni qua vieni qua allora che vieni qui vieni qui no no andare giù ma che lo vedo volare ma anch'io lo vedo volare ok rilevare qua davanti ma è che resta il suo volo fuori e ralga questo dai vieni strenuos davanti ma strenuos vola è un cittone ok scegli kit scegli kit soldato arciere o eh click sinistro quello tipo dove ti pare zero boom bitch wow 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 ok renna giù sul buco ok buttati sul buco non pensare non è un buco di quelli cazzo come la chi dove sto lagga io da capo il servo ma serva di merda dai dai meniamo gli altri non ci meniamo tra di noi dai meniamo gli altri ok inizialato nah mi ha fatto ok rivo 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 moriamo a benocchio dai 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 muore no non può essere morto oh scusa raptor scusa mi. c'è danmi apprezzato aiuto c'è dan po eh c'è danimolo dai venato aiutovi eh ok, eh fatto 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 bene ragazzi siamo i più forti chi è questo alle spalle chi è questo dark 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 coso qua facciate dark facciate dark facciate dark sta specie di coso quadrupedo vieni qua non lo vieni da più dov'è dov'è dark ah ma che è di fatto l'acciaio inox 1810 sto tipo è mortale ok non è possibile grazie per le frecciate c'è 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 mario c'è mario c'è mario ma che mi sta spingendo c'è mario ogni volta che lo becco sembra che becco una stella non lo so ho beccato a mario ucciso marco ahhh chi è questo che mi mena ahhh respawn respawn è il server del lag questo oh ma quella è impressionante muore mai iuhuu non cittano boh chi lo sa attenzione qualcuno ci mena c'è mario c'è mario c'è mario che mi mena a camminare a scatti tipo si anch'io ecco 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 muori muori e chi che mi ha attaccato oh ma questo scappa un collineone vai a giù l'angolo l'uncio sull'angolo ok spingermi con la freccia eccolo ecco 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 ma è mortale ma questo sta accettandoci puro vieni mario mario oh cavolo ma mario lagga pure non lo vedo nemmeno mario mario è morto mario è morto mario è morto no 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 raptor dark tiziano ferro vieni qua scusa ho preso il raptor in culo scusa eh non è una parolaccia chi è che non lo so sembrano tutti uguali ma c'è il mannano giusto non è scappato qua addio ma chi è io dai io sbaglio meno voi è morto l'uso è morto no è morto ancel è morto io becca questo vieni qua toxic è impossibile eh raga questi armati in diamante è diamantus è morto è morto ci sei l'amante che coglione ti aiuta niente ti aiuta niente eh ma io mi aiuto ti aiuta sto fa la strage sto fa la strage ok uno l'ho ammazzato ma saiiii ma saiiii gottto 30vi jump che è chi è che che ti ti tistone up pas stesso tossic ancora con virg manco ronc sotto tro psyche marco mattina chiedetto grande ci faccio direttamente morbida iness rarabbi da un po' il voto 8 almeno a ciao 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 aiuto ti faccio ok aiuto scusa ok ciao 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 lucio lupo luce non è un po' cazzo ma è mortale mori maio laccio mori maio laccio a livello la cia o di nuovo tutto ci sono giusto questo nuovo atto me lo so chi è morto e' grattacchiana ma caccia e' morta voluti che ti fa il pro con l'arco per me c'è un po' non muovere per le volte le solleva per volte lui con un giorno buon giorno tiziano tiziano ferro è risponato ragazzi e non è morto ha preso roptor mario cazzo mario cazzo mario tiziano nell'acqua tiziano nell'acqua è morto tiziano nell'acqua mario cazzo mario cazzo mario cazzo mario cazzo mario che c'è la con me c'è mario lino che c'è la con me lucio su te di testa nella società ammazzo su lucio senso l'acqua lo sparo prezzo sono morto occhialmente mortale ancora stituziano ferro ma mai muore buona sera aspetti salita preso preso pure l'altro che no guarda sto disgraziato infedele io lo so di salvo la vita alla marzo l'acqua tiziano c'è tiziano senza armatura che pure l'acqua da paura cazzo io ammazzo a tutti vai non lo so c'è io ti tiro nel gruppo ma si perchè ma sei ma sei ma sei un di summa ah scusa dark scusa io ci amminiamo ci maniamo ci maniamo tra di noi tanto perchè siamo contenti a farlo raga non muore solo dark eh eh lo so eh sarà un fan di dark per quello non muore basta comunque ragazzi questo video mi sa che sta durando parecchio vabbè dai dai quando volete voi lo possiamo anche finire dai dai facciamo l'ultima gli ultimi kill è morto duty si l'ultimo rush finale aiii l'ultimo rush finale l'ultimo rush finale ho menato raptolino subito l'ultimo rush 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 va bene dai va bene sono morto anch'io ok allora facciamo i saluti i soldi nostri bei saluti yes ok quindi ragazzi niente spero che questo video possesse essere di vostro gradimento trovate tutti i canali in descrizione tutti i video blablabla tutte le seguite formalità lasciate un pollicione in su a tutti i nostri video e niente lascio salutare agli altri vi darà per tutto ciao a tutti va bene grazie anche dalic ciao a tutti ciao a tutti